Sognate ricci perfetti, disciplinati e radiosi? Scoprite il Super Co-Set di Dixoprime, per ricci elastici, perfetto e una definizione totale. Grazie all'avocado, che idrata e nutre, all'elastina, che crea un film protettivo, e alle proteine del riso, che rafforzano e idratano. Super Co-Set. I vostri ricci, la vostra bellezza. Ora disponibile su kmdkp.com.